La favoletta nasce all'interno di uffici che contano, perché pare che gli addetti ai lavori la storia dell'Italia la raccontino così. C'è un bambino che pesa oltre 100 kg. Questo bambino vorrebbe mangiare due vasetti di Nutella al giorno e i suoi genitori, per la sua felicità, glielo lasciano fare. Mamma e papà si lamentano con i medici perché le analisi danno una glicemia esplosiva e inveiscono contro i suoi compagni di classe perché lo lasciano sempre per ultimo quando fanno le squadre del calcetto. Lui sta male e non ha amici, ma pensa che bravi i miei genitori, sono i migliori del mondo. Gli italiani non sono bambini replica chi può e a Francoforte dicono e allora smettete di comportarvi come tali.